Saranno anche stabilizzati, li meniamo, cioè vorrei che uscissi un po' dalla demagogia. No, ma i nuovi lavoratori, i lavoratori in Italia oggi non sono rappresentanti. Fra caro, però io ti ho lasciato parlare che hai detto tante cose interessanti. Allora, l'Italia è un paese in sofferenza, c'è chi fa bene il suo lavoro, i partiti fanno benino o malino, male forse, la politica non funziona, le classi dirigenti hanno fallito, i sindacati... Però stiamo attenti a non eliminare presidi della democrazia. E non funziona, le classi dirigenti hanno fallito, i sindacati, però stiamo attenti a non eliminare presidi della democrazia.